Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti sulle 9 e 5 minuti di lunedì 12 dicembre 2022. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la Littura Cristiana della Cronica della Storia. Prima del pensiero, cari amici, vorrei appunto dirvi che questa settimana è particolare perché è la settimana clou della mariatona, cioè la settimana in cui dedicheremo tante trasmissioni per farvi conoscere la presenza di Radio Maria in Italia e nel mondo, far vedere questo grandissimo progetto dalla Madonna e i risultati acquisiti grazie al suo aiuto e alla vostra generosità, cari amici, e nel medesimo tempo, una settimana in cui prendere consapevolezza del grande dono che Maria ci ha fatto con Radio Maria e anche della responsabilità che portiamo, perché è chiaro che la Radio Maria ha un suo dono, lei ci ha fatto questo dono di inestimabile valore, perché non solo per il valore che ha in Italia, ma per il valore che ha nel mondo, come opera di evangelizzazione straordinaria, praticamente raggiunge quasi tutte le comunità cristiane del mondo, insomma, oltre che grazie ai mezzi moderni di comunicazione, praticamente tutte le raddomarie del mondo, che sono 125, si sentono in tutto il mondo 24 ore al giorno su un cellulare, cioè su un qualsiasi cellulare, in qualsiasi parte del mondo, potete sentire tutte le 125 radiomarie operative e nelle lingue con cui vengono trasmesse, quindi potete immaginare che cosa straordinaria ha realizzato la Madonna, però questa è una responsabilità che dobbiamo portare avanti con grande consapevolezza, perché sapete, cari amici, che Radio Maria non ha finanziamenti se non quelli di suo ascoltatore, quindi come dire che dobbiamo meritarci anche l'appoggio dei nostri ascoltatori, il loro aiuto, che finora ci ha consentito di andare avanti, quindi un grazie di cuore, non è una grande percentuale, è quella dei donatori, cioè in fondo parlo direto, ma l'Italia avrà 4 milioni di donatori, 4 milioni di ascoltatori, i donatori sono 100 mila, quindi vorrei dire, ci sono anche tanti poveri che non possono, che aiutano con la preghiera, però c'è ancora spazio, diciamo così, per far sì che possiamo affrontare le sfide che ci sono in questo momento qui, è quello del caro Prezzi, dell'energia, e le sfide che ci sono per, soprattutto nel continente africano, dove la radio è quella decisiva, è uno strumento decisivo, come i vescovi, infatti tutti i vescovi ce lo chiedono, per l'emangelizzazione, qui abbiamo molte possibilità ancora da realizzare, poi per quanto riguarda il futuro, la Madonna l'ha voluta questa radio e sa perché le serve, sa, lei sa perché le è molto utile, e finora è stata utilissima, ma forse lo sarà ancora di più nel futuro. Questo era per introdurre la settimana che io ho affidato alla Madonna, regina di Radio Maria, perché ci rende consapevoli del dono che ci ha fatto e della responsabilità che abbiamo prima di tutto nei suoi confronti. Adesso, cari amici, vorrei andare avanti però per fare una breve riflessione spirituale che ci conduca al Natale e abbiamo visto le prime tre tappe di questo nostro cammino di conversione verso il Natale, la prima tappa rientrare in se stessi per vedere quale, diciamo, prima tappa, anzi fermarsi da questa corsa traferata che è la vita e che è in modo particolare i mesi di dicembre, dove corriamo, facciamo, però non troviamo un momento per fermarci e per dedicare a noi stessi. Poi abbiamo visto la seconda tappa, il momento in cui fare bilancio della nostra vita spirituale, cioè fare un check up della nostra situazione interiore, cioè chiederci qual è il nostro rapporto con Dio, se siamo sulla via della salvezza o se siamo sulla via della rovina. E poi abbiamo visto, cari amici, che è la terza tappa, prendendo coscienza della nostra situazione di male, di peccato e quindi premendo coscienza che siamo peccatori, che comunque la nostra vita rischia di essere una barchetta che le acque agitate del male buttano qua e là cercando di affondarla, prendere coscienza che da soli non ci salviamo, che abbiamo bisogno dall'aiuto di Dio e quindi dal profondo della nostra miseria e avere l'umiltà di elevare a Dio la nostra richiesta di aiuto, come abbiamo detto il re Davide che dopo i suoi delitti, erano delitti veri e propri, quelli che ha commesso, l'omicidio e l'adulterio, ha gridato dal profondo io grido a te o Signore, ascolta la mia voce. Queste sono le prime tre tappe che avevo delineato sul nostro cammino di conversione, in preparazione della confessione di Natale. Adesso, cari amici, in questa terza tappa vorrei, facciamo tappe, diciamo, una dopo l'altra, dove si cresce alla luce di Dio nella consapevolezza della nostra situazione esistenziale. Bisogna arrivare al momento in cui prendere coscienza dell'inganno nel quale siamo caduti, cioè l'inganno di Satana, che per quanto riguarda la nostra generazione, soprattutto la mia generazione, poi anche quella successiva, quella dei, diciamo così, possiamo dire, sì, possiamo dire dal dopoguerra in poi si è delineato un inganno satanico che ci ha portato in questo scorcio, il primo scorcio del secolo, del terzo millennio, ci ha portato praticamente ad abbandonare la fede cristiana. Cioè non è che noi, cari amici, parlo della nostra generazione, della mia generazione, non è che come il re Davide abbiamo commesso anche i più gravi peccati. Parlo del re Davide perché è un esempio tipico di conversione, di conversione che avviene comunque all'interno della fede, però anche nel peccato il re Davide aveva mai perso la fede. La gravità della nostra situazione, quella della mia generazione, cioè parlo delle generazioni del dopoguerra, è di una gravità maggiore. Perché è di una gravità maggiore? Perché non è che abbiamo commesso dei peccati o dei delitti. Noi abbiamo commesso i più gravi dei delitti e i più gravi dei peccati. Cioè abbiamo rinnegato Gesù Cristo, abbiamo rinnegato la fede, abbiamo rinnegato il cristianesimo, abbiamo seguito la nuova religione dell'uomo che si mette al posto di Dio, quindi una visione atea, materialistica della vita, della quale abbiamo abolito Dio, abolito l'eternità, abolito il paradiso e l'inferno e abolito, diciamo, la legge morale naturale, i dieci comandamenti e siamo entrati in questa costruzione della nuova Babilonia che è appunto il mondo nuovo senza Dio. Noi siamo questa generazione. cari amici, per la verità la gente semplice, io parlo dei nostri ragazzi, i nostri giovani, tante persone, che hanno comunque le loro responsabilità, però sono state, come dire, condotte a deviare perché c'erano le forze del male che ormai hanno in mano il mondo e quindi possono guidare la storia come vogliono loro. La Madonna ha sintetizzato queste forze del male quando ha parlato del modernismo, i tre messaggi sul modernismo molto severi e detti con un tono di scomunica, possiamo dire. La Madonna ha detto che attraverso il modernismo, il modernismo significherebbe questo, la religione moderna, la nuova religione dell'uomo al posto di Dio, questo è il modernismo, la nuova religione dell'uomo al posto di Dio. Noi abbiamo aderito a questa religione, abbiamo rinegato Cristo e la croce, come ci ha detto la Madonna, abbiamo aderito a questa nuova religione che è un inganno satanico, è impressionante come la Madonna dei tre messaggi sul modernismo, cioè tre messaggi sulla nuova religione dell'uomo che si mette al posto di Dio, li abbiamo tutti e tre collegati all'opera di Satana, col quale modernismo Satana ci devia della via cristiana, della via della salvezza mediante Cristo che della via alla verità e alla vita e ci devia sulla sua via, quella dell'orgoglio, quella della superbia, quella della ribellione contro Dio, dell'odio contro Dio, insomma della, come si dice, come vorrei dire, della Babilonia la grande prostituta che è l'umanità, la Babilonia della grande prostituta che è l'umanità che ha deciso per la morte, cioè che ha deciso per Satana, perché Satana è la morte. Questa dunque, noi siamo in questo contesto, cari amici noi possiamo ben dire che abbiamo commesso il peccato per eccellenza, l'apostasia, cioè magari non siamo stati consapevoli, siamo stati crascinati, ma di fatto il risultato finale qual è? Che noi, che le moltitudini oggi vivono in un mondo senza Dio, ti basti pensare come è la prospettiva che ci porta al Natale, è una prospettiva esclusivamente di carattere consumistico, cioè che ci sia un avvento di carattere religioso, che ci sia un Natale come incontro con Cristo, perché il Natale è un evento di grazia mediante il quale Cristo nasce di nuovo nel cuore di ogni uomo che si apre alla sua presenza. Ora, voi fate il caldo, quante saranno le persone, anche dal mondo cristiano, che vivranno il Natale nella fede, nella preghiera, nel pentimento dei peccati, nella sollecitudine di presentare il proprio cuore come una culla nella quale la Vergine Maria possa depositare il principe della pace. Quante saranno? Non lo sappiamo certamente, anche nel continente cristiano per eccellenza, che da loro passeranno pochissime. Dunque noi siamo, cari amici, siamo entrati in questo grande inganno. Ora, quello che volevo dirvi in questa tappa particolare è proprio questo, cioè scoprire l'inganno di Satana. Cioè quelli che pensano che in realtà l'umanità l'ha fatto un salto in avanti, scoprendo che non esiste Dio ma che l'uomo è Dio, dicono che l'umanità l'ha fatto un grande passo in avanti nella sua consapevolezza. ormai questo è diventato anche la religione, diciamo così, la filosofia, la visione della vita spicciola, spicciola di quelli che esigono le varie sette che provengono dall'Oriente asiatico, no? Cioè siamo entrati, siamo cresciuti, siamo entrati in una nuova consapevolezza, siamo noi Dio, la vita è nostra. Cosa è questa religione del Medioevo? C'è questa superbia di fondo che in realtà copre una situazione esistenziale di miseria, di miseria e di disperazione ben coperte ma non c'è niente da fare se tagli il craccio dalla vite, lo puoi colorare finché vuoi tu secca e muore, anche se lo colore di verde diventa marcio. questa è la nostra situazione, cari amici, è fondamentale prendere coscienza dell'inganno satanico, cioè ci siamo messi sulla via della rovina. La Madonna quante volte ha ripetuto che per il mondo senza Dio non c'è futuro né salvezza. E questo riguarda l'umanità in generale e riguarda noi personalmente. Anche recentemente ci ha detto l'umanità ha deciso per la morte, cioè ha deciso per Satana che è la morte. La morte nel senso teologico e biblico della parola, la morte è la distruzione di tutto ciò che è bello, che è buono, che è santo, che è giusto, è l'inferno. Ecco noi abbiamo deciso per l'inferno, ci ha anticipato qui sulla terra. Mi sembrano parole pesanti ma sono le parole della Madonna queste e poi se vogliamo imbiancarle non so se ci conviene. Ci conviene prendere consapevolezza dell'inganno di Satana, ci conviene prendere e chiedere la grazia che ci cadano le squale dagli occhi, ci conviene prendere con decisione la via della salvezza, diventare nuove creature, di nuovo ricevere e chiedere in dono la divina figliolanza, la vita nuova nella grazia, l'osservanza dei comandamenti, la pratica dei sacramenti, insomma ritornare a Cristo che è la via, la verità e la vita, che è la fonte della grazia e della vita cari amici. Questo dobbiamo fare, scoprire l'inganno satanico che è un inganno che attira ma è come quando sei attirato in una palude nella quale affondi e dalla quale non esci più fuori e nella quale se non c'è un dono di grazia speciale perisci eternamente. Vi sto dicendo le verità fondamentali della fede che sono eterne, che non cambiano mai. Quante volte la Madonna ha ripetuto anche in uno degli ultimi messaggi a Miriana, la verità è eterna, come è eterno Dio, la verità non cambia mai, le verità eterne non cambiano mai. È giunto il momento di lasciare, diciamo così, la via della rovina, dell'inganno e della seduzione, della tristezza, della disperazione e tutto ciò che c'è di peggio, lungo quella via, lasciarla. Dio ci dà la grazia di convertirci, ci dà la grazia di uscirne fuori. Approfittiamone. Per questo Natale non aspettiamo un altro, non sappiamo in che situazione ci troveremo il Natale del 2023, non sappiamo nulla. Adesso è il momento della salvezza, adesso è il momento delle nostre decisioni. Questo dunque, cari amici, era quanto volevo dirvi e adesso andiamo a aggiornare la nostra situazione. Come sapete, io non mi dilungo nella cronaca, io faccio una lettura teologica, faccio una lettura teologica, diciamo, della realtà attuale del mondo, quindi non mi perdo insomma, in cose per quanto siano importanti però, insomma, non è che siano eventi della grande battaglia che è in atto fra la donna vestita di sole e il dragone infernale, cioè ovviamente noi siamo entrati nella fase del mondo dell'apocalisse, della grande battaglia fra la donna vestita di sole e il dragone infernale, la Madonna c'è ad un segno chiaro che c'è questa battaglia, apparendo a Međugorje con una corona di 12 stelle intorno al capo, quindi questo deve bastare come richiamo all'apocalisse al capitolo dodicesimo dove c'è questo segno nel cielo, una donna vestita di sole con una corona di 12 stelle intorno al capo e sotto il drago che la sale, noi siamo in questa fase, la Madonna c'è anche specificato all'inizio del secolo che il drago è sciolto dalle catene, noi siamo in questa fase, cari amici, quindi io personalmente, pur essendo sempre attento a tutto quello che accade e ovviamente lo commento quando è necessario, però in questo momento l'epicento della grande battaglia fra la donna vestita di sole e il dragone infernale è proprio questa guerra, cioè è incominciata come la Madonna ci ha detto in un modo solenne nel messaggio del 25 febbraio di quest'anno quando ha detto che Satana ha visitato la terra con il suo potere di morte, di odio e di paura, quindi l'evento come se fosse scoppiata la guerra fra cielo e terra, la presentata così la Madonna e poi l'ha ribadito per cinque mesi consecutivi evocando sempre Satana, quindi questo è l'epicentro della grande battaglia escatologica, si vede subito la volontà di Satana di distruggere il mondo, di incendiare il mondo, almeno ce l'ha detto, comunque non è che sia una novità, ce l'ha detto nel 1991, quando crollò l'Unione Sovietica ci disse che Satana vuol distruggere la vita, la natura e il pianeta sul quale vivete e ci chiese digiunghi e preghiere per novene, l'ha fatto a gennaio del 91, l'ha fatto agosto del 91 quando sembrava che con un colpo di Stato potesse accadere l'irreparabile, amate a vedere i messaggi del 25 gennaio 1991, del 25 agosto 1991, insomma quindi la Madonna ci ha dato questa visione della storia ben precisa che è quella della grande battaglia escatologica, non è la battaglia ultima, quella della fine del mondo, è la battaglia che è iniziata, che continuerà, è in atto da 42 anni, 43 anni, 42 anni, non sappiamo quanto durerà, andrà avanti ancora, ma alla fine questa battaglia si concluderà col trionfo del cuore immacolato di Maria, quindi il mio compito, ritengo che sia il mio compito più importante, è quello di muovermi all'interno di questa battaglia e di soprattutto essendo molto attenti a quel che dice la Madonna, ma anche i segni del tempo, per capire diciamo quello che dobbiamo affrontare, che è comunque un nemico temibile, è il potere delle tenebre, con il suo potere di inganno, quanti sono ingannati, quanto sono deviati, quanti hanno il fumo negli occhi e non vedono, quindi questa è dunque la nostra attenzione. Allora, per quanto riguarda la situazione di questa guerra, la situazione diciamo è sicuramente quella di un prolungamento e di un allargamento, questo è quello che vedo io, poi dobbiamo anche del presente che tanti pregano perché questa guerra cessi e quindi c'è anche questa possibilità che le perfezioni umane vengono peggiori, vengono smentite per grazia diciamo, però umanamente parlando questa guerra si prolunga e si allarga e c'è stata come sapete in questi ultimi due o tre mesi una riconquista da parte dell'Ucraina e da alcuni territori e c'è stata come risposta della Russia una distruzione sistematica di tutte le infrastrutture dell'Ucraina e per infrastrutture si è tutto, però soprattutto tutte le centrali di energia elettrica sono state colpite da missili, come pure le dighe, le sorgenti d'acqua, gli acquedotti, per cui l'Ucraina attualmente è in una situazione che non ha abbastanza contro l'aerea sufficiente per difendere tutti le centraline, gli acquedotti eccetera, per cui si trova in una situazione che praticamente tocca a tutta la popolazione di mancanza di elettricità e di acqua, questa è la situazione attuale proprio nel momento in cui l'inverno sta entrando nella sua fase peggiore, quindi questo è quanto, questa è la realtà, poi se uno non la vuole vedere a me non mi interessa a fare i suoi insomma. Allora, proprio a partire da questa situazione c'è stato un cambiamento in questi ultimi due o tre giorni, cioè praticamente questa distruzione sistematica di infrastrutture dell'Ucraina è avvenuta attraverso missili, sono stati sparati in questi mesi di guerra e più di 5.000 missili, è scelto a contare poi i droni di costruzione iraniana che sono particolarmente distruttivi e per difendersi da questi missili cosa è successo? È successo che l'Ucraina ha cominciato a sviluppare diciamo dei droni autogestiti, cioè costruiti da loro, che vanno a colpire le basi da cui vengono lanciati i missili russi, quindi sono basi che sono in Russia e dalla quale vengono lanciati i missili e per le quali l'Ucraina dalle armi ricevute dagli Stati Uniti non ha la possibilità di arrivare a quelle basi perché anche le armi più sofisticate sono state modificate dagli Stati Uniti in modo tale che non potessero arrivare oltre i confini dell'Ucraina e questo per prudenza, per evitare reazioni spropositate da parte della Russia. Allora adesso io leggo sui giornali, lo leggo stamattina, che è caduto il veto degli USA sui raid in Russia, anche perché è diminuito il timore l'escalation nucleare. Allora cosa significa questo? Significa che l'Ucraina si sta organizzando cioè con l'aiuto ovviamente degli alleati in primo luogo gli Stati Uniti, si sta organizzando per poter colpire le basi da dove partono i missili e i droni della Russia che sono basi nel territorio russo. Questo vuol dire? Vuol dire che comunque di fatto c'è un allargamento della guerra. Questa dunque è una situazione nuova che va segnalata, non voglio perdermi in cose però, queste sono cose importanti da dire. C'è sicuramente un prolungamento, un allargamento della guerra. Vi leggo brevemente, perché è molto breve, questo articolo del Corriere che lo porta per una condizionale. Però in genere fa sempre così. Cioè prima lo porta una condizionale, poi arriva la conferma. Dunque il titolo è «Guerra in Ucraina accade il veto degli USA sui raid in Russia». La decisione sarebbe stata presa in seguito all'intensificarsi nelle ultime settimane dei bombardamenti sulle infrastrutture civili ucraine da parte degli uomini di Putin, ma non dovrebbe mutare lo scenario. Cioè non dovrebbe uscire fuori dalla guerra come è stata finora. Sembra che la Russia abbia assicurato per il momento di non usare armi atomiche. È una ipotesi mia questa. In Ucraina i combattimenti sul campo non si fermano, così come le analisi degli esperti. È una rivelazione alla volta dagli spifferi provenienti dalle amministrazioni. Quindi è uno spiffero questo però consistente. Un anonimo funzionario della difesa degli Stati Uniti ha rivelato nei giorni scorsi al Times di Londra che il Pentagono, cioè il Ministero della Difesa degli Stati Uniti, avrebbe tolto il veto sui raid compiuti dagli ucraini contro obiettivi militari in territorio russo. Cioè praticamente il Pentagono finora aveva vietato agli ucraini di usare armi americane per colpire le basi missilistiche russe. Adesso pare che il Pentagono abbia tolto il veto sui raid compiuti dagli ucraini contro obiettivi militari in territorio russo. La recensione sarebbe stata presa in seguito all'intensificarsi nelle ultime settimane dei bombardamenti sulle infrastrutture civili ucraine da parte degli uomini di Putin, ma non dovrebbe mutare lo scenario. nonostante il veto degli Stati Uniti che si sono prima rifiutati di fornire razzi a lunga cittata e poi avrebbero modificato quegli inviati per evitare che potessero arrivare in Russia, finora la resistenza ucraina ha colpito oltre confine con sabotaggi missili e droni e forze speciali di propria costruzione, non quindi di provenienza americana. L'accordo con gli alleati era di utilizzare le armi fornite per riconquistare i propri territori, compresi quelli annessi nel 2014, cioè anche Donbass e la Crimea, senza però colpire in Russia per provocare reazioni da parte del Cremilino. Ora, secondo l'interpretazione del Times, sarebbe invece arrivato l'O.K. per attaccare obiettivi militari in territorio nemico. Gli obiettivi militari sono le basi da dove vengono lanciati i missili. L'aspetto più importante di questa decisione sarebbe tuttavia un altro. A Washington avrebbero cambiato prospettiva perché hanno meno timore di un'escalation del conflitto, cioè hanno meno timore che il conflitto possa debordare su minacce concrete di uso di bombe atomiche speciali, compresa quella nucleare. E l'impatto degli strike, cioè dei attacchi in profondità da parte degli ucraini è confermato da quanto avvenuto in queste ore a Meritopol con installazioni usate dai russi centrati da Heimar. Cioè i Heimars sono dei cannoni che di per sé potrebbero arrivare a 300 km, ma i Stati Uniti li hanno modificati, per cui arrivano a 70 km. Adesso, a quanto pare, si è aperta questa possibilità di colpire anche molti confini e ovviamente è fondamentale anche in questo settore fondamentale la segnalazione degli Stati Uniti su dove si trovano questi posti, queste basi di lancio dei missili, cioè soltanto una localizzazione che poi viene soltanto dai satelliti può indicare le basi e poi può colpirle. Quindi questa era comunque una notizia importante, cioè in pratica come già vi ho detto, di fatto la guerra si amplifica e si prolunga. Poi come sappiamo la Madonna ci ha detto che la preghiera compie miracoli nei cuori e nel mondo e ci ha detto che con la preghiera e il digiuno potete fermare anche le guerre. La Madonna nulla è impossibile, noi facciamolo cari amici. Mettiamoci nei panni di questa gente, questa povera gente, parlo di gente che è senza elettricità, non può mangiare, non può scaldare, non può illuminare, non può manca l'acqua. Sono file e file, praticamente l'Ucraina è un file e file e file di gente che va per prendere un piatto caldo una volta al giorno in centri di distribuzione del cibo e questo ovunque in Ucraina, non soltanto nelle zone di guerra. Volevo anche completare quello che ho detto alcuni giorni fa leggendo un articolo di Avvenire che parla della deportazione dei bambini ucraini e da parte dei militari russi in Russia e la cosa, diciamo, la notizia più incredibile è quella che ha dato sua beatitudine il patriarca di Kiev di rito greco o cattolico, sua beatitudine Shvechuk, che ha scritto che 150.000 bambini ucraini sono stati deportati in Russia e dal Donbass portati nei campi militari dei ceceni. Cioè sapete chi sono i ceceni? È una etnia musulmana molto feroce, questo lo sanno tutti e appunto secondo il capo della Chiesa Ucraina di Greco-Cattolica ben 150.000 bambini sono stati deportati in Russia e poi dal Donbass portati nei campi militari dei ceceni. Vediamo questa notizia che comunque è riportata dall'agenzia SIR della CEI. Gli stessi russi affermano, ha scritto sua beatitudine, gli stessi russi affermano di aver portato dall'Ucraina più di 150.000 bambini ucraini. Ma la cosa più barbara è che i bambini ucraini del Donbass vanno nei campi militari creati dai ceceni incaricati ad educare i bambini ucraini nel modo più aggressivo per odiare la loro patria. Ci li prendono, li educano a odiare la loro patria per poter un domani mandarli come soldati contro l'Ucraina. Nelle maie dei bambini vengono messe le armi e la denuncia è lanciata ieri da sua beatitudine Sviatoslav Svechkuk, capo della chiesa greco-cattolica ucraina, nel suo videomessaggio quotidiano. Oggi, dice l'arcivescovo Maggiore, arrivano anche notizie molto preoccupanti e difficili, notizie drammatiche dai nostri territori occupati, quelli occupati dai russi. Di nuovo il nemico sta cercando di deportare in massa bambini ucraini. Inoltre i russi hanno lanciato uno spot dedicato all'adozione sforzata di bambini deportati dall'Ucraina. Preghiamo per i bambini caduti oggi nelle mani del nemico, dice, per i bambini a cui stanno rubando la patria, la lingua, la cultura, l'amore stesso per tutto ciò che è loro e l'esortazione dell'arcivesco che sempre nel messaggio di ieri ricorda che ogni giorno alle ore 20, ore ucraina, i fedeli cattolici del paese mettono da parte tutte le nostre attività per pregare per la nostra patria. Invito tutti i giovani, dice, ragazze e ragazze, a pregare insieme per la patria, perché questa è una preghiera in particolare per l'eroica gioventù ucraina. Come vedete, per me dice, non sono i giornaloni o cose di questo genere. Questa è la voce dell'arcivesco della chiesa, è il capo della chiesa greco-cattolica dell'Ucraina, che è stato ricevuto qualche giorno fa dal pape e al quale lui ha raccontato le cose come stanno. D'altra parte c'è anche un altro articolo di Avvenire che fa una visione complessiva di questo problema facendo capo all'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati che alla data del 17 ottobre del 2022 ha detto che i 2.800.000 ucraini sono stati registrati come entrati in Russia dall'inizio dell'invasione. Secondo i funzionali russi, però, il numero è più alto con circa 4 milioni e mezzo di ucraini in Russia inclusi 690.000 bambini a 5 ottobre del 2022 riporta Amnesty International. Il decreto del presidente Putin per accelerare la concessione della cittadinanza russa ai bambini può facilitare l'assorbimento di bambini e persone con disabilità nella società russa e denuncia sempre Amnesty International che negano il loro diritto di scegliere e preservare la loro nazionalità. Niente di causale, dice Amnesty International nella natura sistematica di alcune deportazioni o trasferimenti forzati sono parte di un più ampio attacco alla popolazione civile ucraina. Questo è l'articolo di sabato di avvenire quindi questa è la realtà diciamo dello sterminio di un popolo se voi avete qualche altra formulazione diciamo più digeribile fate pure io vedo qui quello che è la realtà cioè la distruzione di un popolo e questa è una cosa è una cosa che l'umanità non può digerire non può ammettere non può sopportare nel modo più assoluto ci dovrebbe essere un'iniziativa globale promosso dall'ONU e di tutte le nazioni del mondo perché costringono i russi e tornare a casa loro perché di questo si tratta alla fin fine tornino a casa loro nei loro confini quali riconosciuti dall'ONU non è che ci sia tanto da parlare andando avanti si andrà verso il peggio e forse verso l'irreparabile bene questo era quello che dovevamo dire adesso andiamo andiamo verso la fine perché dobbiamo ovviamente poi dovevamo anche poi dedicare lo spazio necessario per l'inizio della mariatona avremo il nostro presidente Vittorio Viccardi ai microfoni alle 10 però c'è ancora un po' di spazio per diciamo il il nostro blog che che è ricchissimo cioè si c'è molti partecipano con le loro lettere e ne sono arrivate alcune molto importanti su su Luisa Picarreta che parla del nuovo mondo della pace quasi di un nuovo paradiso terrestre questa è sicuramente una rivelazione molto importante da approfondire ho aperto anche una nuova sezione intitolata il diario di Padre Livio ogni giorno metto un pensiero di carattere come si dice esortativo che ci aiuti a camminare diciamo passo dopo passo in questo tempo dell'Apocalisse quindi se voi andate sul blog e selezionate il diario di Padre Livio trovate che ho incominciato ormai da tre giorni a mettere un pensiero mettere oltre o quattro pensieri alla settimana però che siano di attualità nel nostro cammino spirituale c'è anche una una bella lettera di un padre di famiglia che andando domenica alla messa ha sentito la predica e ha sentito il ha sentito il sacerdote che in pratica spiegando il Vangelo secondo cui i cecchi riacquistano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano ai poveri annunciato il Vangelo il prete interpretando questo passo dice che non si tratta di miracoli compiti da Gesù ma soltanto di miracoli di carattere spirituale non di carattere fisico ovviamente mi chiede se questa interpretazione è valida ho risposto assolutamente di no ho compiuto veri miracoli questa interpretazione questa negazione dei miracoli in fondo è in realtà una negazione della divinità di Gesù Cristo gli ho risposto caro Filippo non c'è dubbio che la guarigione che le guarigioni effettuate da Gesù vanno intese innanzitutto come un un miracolo fisico Gesù compiva i miracoli quelli che abbiamo visto e abbiamo segnalato abbiamo letto perché è il figlio di Dio allo stesso modo gli apostoli e i santi li hanno compiuti e li compiono tuttora nel suo nome purtroppo è la fede in Gesù Cristo figlio di Dio e il rientroio del mondo che sta spegnendosi in molti cuori preghiamo incessantemente perché Gesù accresca la fede nel cuore di coloro che ha chiamato ad essere la sua presenza nel mondo ecco dunque volevo queste sono purtroppo eresie che si diffondono a livello parrocchiale ma sono gravi e vanno confutate cioè bisogna essere stancabili nel denunciare gli errori dottrinali anche le deviazioni di carattere dottrinale ma anche di carattere morale è per quello che la Madonna ci dice siete testimoni cioè è per quello che lei è qui con i suoi messaggi perché noi sappiamo qual è la verità e la testimoniamo cioè ha fatto un momento di errori le deviazioni diciamo il male le tereme in generale crescono se noi le lasciamo crescere dobbiamo opporci con la nostra vita con la nostra parola e con tutto noi stessi irradiando il bene se no cari amici cosa succede? succede che il male prevale e stiamo attenti che le tenebre come ha detto la Madonna non la ferino anche noi poi sempre per il blog ho ricevuto una un'email da una mamma di due ragazzi delle medie e una bambina di elementari e questa è una cosa molto seria molto importante che sono sette meggiugorie e mi chiede e mi fa questa domanda vi leggo la sua lettera il suo email Carlo Badelivio sono la mamma di due ragazzi delle medie e di una bambina delle elementari io e mio marito ci sforziamo di dedicare i fili nella fede inculcando i sani principi della vita cristiana siamo anche stati a meggiugorie e ne abbiamo avuto molti benefici spirituali ora abbiamo una domanda da porle per la quale vorremmo una risposta che ci tranquillizzi caro padre Livio dobbiamo parlare i nostri figli in particolare i due più grandicelli dei segreti che verranno rivelati nel prossimo futuro cioè la mamma mi chiede se può parlare i bambini c'è una bambina della scuola elementare e due bambini della scuola media mi chiede se può parlare almeno i due più grandicelli dei segreti che verranno rivelati nel prossimo futuro questa è una domanda che ovviamente a cui io ho risposto qui sul blog ma nel medesimo tempo la lascio aperta perché rispondiate anche voi perché è molto importante sentire anche i pareri dei genitori le loro esperienze i loro consigli chi vuole leggere diciamo la mia risposta a Luisella vada sul blog l'indirizzo del blog via google è blog di padelivio punto it se invece entrate attraverso il sito internet radomaria punto it in alto a destra c'è l'icona blog di padelivio entrate e vedete cari amici qual è stato il mio consiglio a Luisella riguardo se parlare ai due figli cioè ai due figli della scuola media dei segreti che verranno rivelati a Meciugorio e con questo cari amici abbiamo terminato ringraziamo Dio sempre per tutto perché tutto è grazia perché l'amore di Dio è una sorgente inesauribile peccato che non tutti i cuori si aprono ad accoglierlo ed è soprattutto abbondante in questo tempo di Natale e adesso cari amici avremo una breve pausa poi fra qualche minuto iniziamo la mariatona con la prima intervista con il presidente di Radomaria Vittorio Vicardi con il quale faremo una panoramica generale di Radomaria dei problemi che ci sono delle opportunità che ci sono e anche la situazione qui in Italia anche qui abbiamo dei problemi da affrontare però diciamo possiamo dire che nonostante tutto il covid e la guerra la guerra significa un aumento dell'energia un aumento di tutto anche delle spedizioni sono raddoppiate le spedizioni in Africa figuratevi però nonostante tutto teniamo duro ma nel medesimo tempo abbiamo tanto bisogno dell'aiuto di tutti tutti gli ascoltatori a fra poco che ci sono Grazie a tutti.